Siamo in Inghilterra nel 2008, quando una bambina scompare nel nulla. La madre crede che sia stata rapita e tutti nel suo quartiere la aiutano con le ricerche. Le regalano soldi, cibo e praticamente tutto il Regno Unito vuole darle una mano. Però nessuno sa che questa donna in realtà sta nascondendo qualcosa. Il suo segreto la porterà a diventare la madre più odiata di tutto il Regno Unito. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E finalmente oggi per una volta vi parlerò di un caso che non solo è stato risolto, ma che è anche finito bene, più o meno. In ogni caso, come capita spesso, verso la fine è probabile che vi arrabbierete un po'. Però prima di cominciare con le solite cose brutte, voglio raccontarvi una cosa piuttosto bella. Allora, io fino a qualche mese fa ero convinto, abbastanza convinto, di cavarmela molto bene con l'inglese. Poi però sono andato in Inghilterra, tra l'altro molto vicino a dove è ambientato il caso di oggi, e mi sono reso conto di non capire praticamente niente. Ma ho anche realizzato che l'inglese è davvero fondamentale e apre le porte a viaggi, allo studio e al mondo del lavoro. Non avete idea di quante opportunità si presentano una volta imparata la lingua. Per questo ho deciso di provare Cambly, che mi ha aperto un mondo letteralmente. Cambly è una piattaforma di e-learning che permette di fare lezioni online d'inglese ovunque voi vogliate. Al suo interno ci sono più di 10.000 tutor madrelingua disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Così davvero potete decidere voi quando e come studiare. Per esempio potete scegliere di avere un tutor con l'accento statunitense, oppure uno con l'accento britannico, e ognuno di loro saprà guidarvi verso i vostri obiettivi in base alle vostre esigenze. Ma in realtà i servizi offerti da Cambly sono davvero tantissimi, e in questo periodo molti sono addirittura gratuiti. Quindi direi che settembre è il mese ideale per cominciare a migliorare il proprio inglese con Cambly. Con le risorse gratuite della piattaforma, infatti, potrete prepararvi per affrontare colloqui di lavoro in inglese, imparare modi di dire o ancora praticare in modo illimitato con Cambly, un nuovo sistema di intelligenza artificiale che simula una vera conversazione con un tutor. Per accedere a tutto questo, specialmente alle risorse gratuite, vi basterà iscrivervi a Cambly. Inoltre, se utilizzerete il mio codice, Andrew, avrete anche uno sconto del 55% sui piani annuali, sconto che è disponibile solo per il mese di settembre. Grazie al codice che mi hanno gentilmente fornito per voi, i prezzi, ragazzi, sono veramente imbattibili rispetto alle scuole di inglese tradizionali. Infatti potete iscrivervi ai piani annuali a partire da soli 18 euro al mese. Inoltre, sempre grazie al codice Andrew, Cambly mi ha offerto la possibilità di farvi provare il servizio gratuitamente. Potete effettuare una lezione gratuita di 15 minuti, così da poter testare il servizio e non avere dubbi prima di acquistarlo. Veramente, ragazzi, fate almeno la prova gratuita, perché tanto appunto è gratuita, è gratis. Ma vi assicuro che anche in così poco tempo vi renderete conto che con l'inglese si sbloccano tutta una serie di nuove opportunità che potrebbero cambiarvi la vita. Senza l'inglese, per esempio, io non sarei qui a fare video, perché il 90% delle informazioni che mi servono per fare questi video sono appunto in inglese. E niente, ragazzi, fatemi sapere se lo proverete e non dimenticate di dirmi le vostre impressioni e i vostri miglioramenti con la lingua. Quindi grazie a Cambly per aver messo a disposizione tutto questo e per aver reso possibile questo video. Ora possiamo cominciare con il file di oggi. Ci troviamo a Desbury, una località abbastanza popolata della contea del West Yorkshire in Inghilterra. Desbury ha una storia particolare e non troppo felice. Tanto tempo fa c'erano delle fabbriche attorno che davano lavoro a moltissime persone. Nel corso degli anni, però, queste fabbriche hanno cominciato a chiudere una per una, fino a quando alla fine non hanno chiuso tutte. Di conseguenza, le persone che vivevano da quelle parti hanno perso il lavoro, perché moltissime, se non praticamente tutte, erano assunte da una di queste fabbriche. Molte di queste persone avevano anche messo su famiglia e quindi in tanti hanno perso tutto. E così le strade di Desbury sono diventate molto meno sicure. Sono nati i primi gruppi di criminali, molti giovani se ne sono andati e in generale si è creata una situazione di grande povertà e criminalità. Adesso però la situazione sembra essere cambiata. Verso gli anni 2000 il governo ha cercato di sistemare un po' tutta quella località. Alcuni posti di Desbury sono quindi diventati più vivibili e più puliti. Ogni giorno e per anni la polizia ha combattuto contro la criminalità e nel giro di alcuni anni questa zona è diventata più pulita proprio in tutti i sensi. Dopo un po' di tempo per strada ha iniziato a vedersi anche della gente per bene e non solo criminali. Dagli anni 2000 hanno anche cominciato a vedersi dei nuovi volti, nuovi abitanti gentili e altruisti. La comunità di Desbury così è diventata forte e unita. Lì adesso, ma già da qualche anno, si avverte proprio una sorta di unione collettiva, come se tutti facessero parte della stessa grande famiglia. Un forte senso di comunità ecco. Tutti si vogliono bene e sono pronti a darsi una mano a vicenda. Sempre. Questo è il clima che si vive da quelle parti. Non sembra esserci troppa cattiveria in giro. Non più almeno. Dopo tanto tempo è diventato un posto tranquillo in cui vivere, in particolare a Moorside Road. Una via piena di case molto piccole, umili e tutto uguali, dove vive anche la famiglia protagonista del nostro caso. Ve lo dico già, questa famiglia è un vero casino. Ma cercherò di spiegarvi le cose con ordine, direi infatti di partire da lei. Karen Matthews. La donna da cui comincia tutta questa storia. Allora, Karen, fin da giovane, è sempre stata una ragazzina molto particolare. È una di quelle persone che non stanno mai ferme e vogliono vivere in maniera libera e indipendente. In tutti i sensi. Cioè, da quello che ho capito, è una donna che vuole fare le cose a modo suo. Sempre. E senza discussioni. Karen cresce a Desbury, con sua sorella e i suoi genitori June e Gordon. Ma in casa le cose non vanno troppo bene. Sappiamo che ad un certo punto Karen abbandona la scuola all'età di 16 anni e si trasferisce in un'altra casa. A quanto pare sempre a Desbury. Continua ad avere un legame con i suoi genitori, ma in modo un po' più distante e distaccato. Il motivo di questa separazione non è molto chiaro, ma una fonte dice che i suoi genitori litigavano. Però non è chiaro se litigassero con Karen o fra loro due o tutti insieme. Ma ad ogni modo, all'età di 17 anni, Karen rimane incinta del suo primo figlio. E da qui la sua vita prende una piega davvero altalenante e confusa. Praticamente fino ai suoi 28 anni si trasferisce spesso e cambia partner di continuo. Con alcuni di questi mette al mondo altri figli, con altri semplicemente ci esce per un po' e poi li molla. Non è una persona costante, sembra che viva la sua vita in maniera caotica e con pochi freni. Talmente pochi ragazzi che a 28 anni ha già 7 figli con 5 padri diversi. Di base non c'è niente di male, ma diciamo che ha allargato enormemente il suo albero genealogico e di conseguenza ha reso la sua situazione burocratica un vero casino. Perché in Inghilterra, se fai dei figli, lo Stato in sostanza ti dà dei soldi. Ho semplificato molto eh. Ma comunque in casi come il suo, se hai fatto tanti figli con tanti padri diversi, magari anche padri irrintracciabili, beh diciamo che la situazione diventa un po' un casino. Cioè viene difficile assegnare tutti i bonus e gli aiuti che le aspetterebbero. Ma alla fine, non si sa come, Karen sembra riuscire a sistemarsi. Trova una casa a Desbury, precisamente a Moorside Road, e vive con il suo nuovo compagno, il diciottenne Craig Meehan. Insieme a loro in quella casa piccola e molto umile, vivono anche 4 dei figli di Karen. Non ho idea di dove fossero gli altri. Comunque una di questi 4 figli è la sfortunata protagonista di questo caso, Shannon Matthews. Shannon nasce il 9 settembre del 1998, alla mia età. Ovviamente sua madre è Karen, mentre suo padre è un uomo di nome Leon Rose. O Leon. Leon Rose. Karen e Leon si separano dopo 3 anni dalla nascita della piccola, per cui Shannon praticamente ha vissuto solo ed esclusivamente con sua madre da sempre. È una bambina molto timida, introversa e anche molto educata. Ama molto le brazze, gli orsetti di peluche, e in casa è molto gelosa dei suoi spazi. Nel senso che il suo letto, per esempio, lo tratta quasi come un tempio. Cioè nessuno si deve avvicinare al suo letto. E c'è un motivo per cui vi sto dicendo queste cose, dopo torneranno. Shannon adora tantissimo stare con suo padre Leon e con i suoi nonni June e Gordon, i genitori di Karen. La sua è una vita semplice, in una casa piccola e con una famiglia abbastanza grande. Tutto sommato, sembra andare davvero tutto bene. Ma nel 2008 succedono una serie di cose a dir poco inquietanti. In quel periodo Shannon comincia a non andare a scuola regolarmente, il che è molto strano. Poi le persone del quartiere cominciano a vederla sempre di meno in giro. E in quelle poche occasioni che la vedono, sembra sempre un po' sporca. Ma è il 19 febbraio del 2008 che accade la cosa davvero tragica. Un rapimento. Shannon ha ormai 9 anni. Quel giorno è felicissima perché non vede l'ora di uscire di casa. La sua classe, infatti, quella mattina, doveva andare ad un centro sportivo. A quanto pare dovevano fare le classiche lezioni di nuoto, che si fanno sempre alle elementari. E lei non vedeva l'ora. Era davvero strafelice. Quindi esce di casa intorno alle 8 del mattino. Ha lo zaino sulle spalle con tutto lo corrente dentro. E si è addirittura vestita bene per l'occasione. Che cosa carina. Cammina a piedi per più di un chilometro fino ad arrivare alla sua scuola, la Westmore Junior School. Lì incontra la sua migliore amica, con cui si mette a parlare del più e del meno. Dopo qualche minuto, gli insegnanti portano la classe in questo centro sportivo. Viaggiano in bus e arrivano tranquillamente a destinazione. Entrano tutti e fanno la lezione di nuoto senza nessun problema. Verso le 15 arriva il bus per riportare i bambini a scuola. Quindi la giornata scolastica è terminata. E tutto è andato veramente in un modo normalissimo. Shannon, insieme a tutti i suoi compagni di classe, sale di nuovo sul bus e torna verso la scuola. Da lì sarebbero poi tutti ritornati a casa. La bambina però scende dal bus e non fa ritorno a casa. Nella confusione praticamente nessuno si è reso conto di dove fosse andata. Verso le 16 sua madre Karen giustamente comincia a preoccuparsi. Sua figlia non è ancora tornata, ma pensa che sia solo in ritardo. Però passano altri minuti e non ci sono notizie. Allora Karen decide di bussare ai vicini per chiedere informazioni. Pensa che magari Shannon è andata a casa di qualche amica o cose così. Però cercando un po' scopre in fretta che di lei non c'è traccia da nessuna parte. Il che è davvero molto preoccupante. La donna conosce molto bene sua figlia. Sa che è molto timida e riservata. Non aveva mai disobbedito e non sarebbe mai scappata e sparita nel nulla così senza motivo. Quindi comincia a crearsi un po' di tensione in quel quartiere. A Morside Road si sparge la voce della scomparsa di Shannon. E tutti si preoccupano immensamente. La gente del posto comincia a chiedere informazioni a tutti i negozi e a tutte le persone di interesse. Ma ancora una volta, nessuno sa o ha visto nulla. Per quanto assurdo, Karen accetta la dura realtà. Sua figlia è scomparsa. Anzi, lei pensa addirittura che sia stata rapita e va a spiegare la situazione alla polizia. Chiama il 999, che sarebbe il numero d'emergenza inglese, e denuncia la misteriosa scomparsa. E ragazzi, davvero in pochissimo tempo, praticamente tutti gli abitanti di Desbury si sono dati da fare. Come vi ho detto all'inizio, la storia del posto ha reso tutti i residenti molto uniti e collaborativi. Come se fossero in un branco. L'intera comunità, quindi, vuole dare una mano. Perché non solo è indignata, ma è anche preoccupata. Se c'è un rapitore di bambini in giro, deve essere fermato. E al più presto. Non vogliono stare ad aspettare la polizia, vogliono fare qualcosa anche loro. E dato che siamo a febbraio, in Inghilterra, con un freddo che neanche voglio immaginare, ogni secondo che passa potrebbe essere fatale. Cioè Shannon ha solo 9 anni. Molto probabilmente è sola da qualche parte. Se è all'aperto rischia un'ipotermia, mentre se è al chiuso, con il suo rapitore, è comunque in pericolo di vita. Polizia, notiziari, gente comune, giornali importanti e forze speciali si immobilitano e danno una mano a Karen. Ognuno di loro fa quel che può, ma lo fa al massimo delle sue possibilità. La polizia interroga Karen e comincia a cercare ovunque. Vengono chiamate le unità cinofile. E ve lo giuro, tutti quanti cercano in ogni angolo di Desbury. Letteralmente viene controllato ogni centimetro di quel posto. Vengono anche piazzati in manifesti ovunque e si cerca Shannon fino a notte fonda senza interruzioni. Alcuni residenti si alternano e si organizzano a turni per le ricerche. Cioè, mai vista una cosa così, ragazzi? E devo dire che è una cosa molto bella. Cioè, è tragico ciò che è successo, ma è bellissimo che tutti si diano da fare per una causa comune. Immaginate che i moltissimi erano in mezzo alle strade di notte con le torci a cercare in ogni angolo, di ogni via, di ogni casa, di ogni vicolo, ovunque. Ma non è tutto. Le persone del posto, per dimostrare la loro vicinanza a Karen, la riempiono letteralmente di doni. Le danno anche cose come giocattoli per Shannon, perché anche se è scomparsa, Karen è sicura che sia ancora viva e tornerà presto. E ne sono sicura anche le persone di Desbury. Davanti alle telecamere dei TG, possiamo vedere Karen che piange disperata mentre spiega la situazione, ma riesce a convincere tutti che sua figlia è ancora viva e che sicuramente c'è ancora speranza, che non bisogna arrendersi. Molti a questo punto la stimano per come sta affrontando la situazione. Perché anche se è distrutta dal dolore, comunque vuole agire, vuole fare qualcosa, non vuole solo piangersi addosso. Certe volte cede al dolore, come è normale che sia, ma lei e le altre persone della comunità si danno una mano a vicenda. Per far conoscere il caso, questa tragedia, a tutto il Regno Unito e in realtà anche un po' a tutto il mondo, perché il caso poi è diventato mediatico, se ne è parlato un po' ovunque. Gli abitanti di Desbury sono stufi della criminalità. Già anni prima ci avevano fatto i conti, per cui non vogliono tornare a quei tempi bui. Perciò organizzano delle marce e dei raduni, constrescioni, magliette per pubblicizzare il caso e anche per invitare chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Gridano chiedendo giustizia e pregano affinché avvenga un miracolo. Tutto molto bello e intenso, sì, ma c'è da dire che tutto questo ha un costo e che Karen non sta così bene economicamente. A questo proposito le vengono in aiuto moltissimi conoscenti che le portano soldi, cibo e viveri. Pensate che persino la testata giornalistica The Sun, famosissima in tutto il mondo, ha contribuito con una donazione. Infatti, tornando alla vicenda, sono in molti ad aver messo da parte dei soldi per Karen e l'hanno fatto sia per sostenere lei, sia per fissare una ricompensa in cambio di informazioni. Questa ricompensa, dopo un po' di tempo, raggiunge la cifra di 50.000 sterline, che sarebbero più di 57.000 euro di oggi. Non è poco. Ma purtroppo devo informarvi del fatto che tutta questa buona volontà, tutti questi soldi, tutti questi sforzi disumani, non serviranno a nulla. Shannon non si trova da nessuna parte. E l'unico modo per andare avanti è fare affidamento solo sulla polizia. Quest'ultimo ovviamente non se ne è rimasta con le mani in mano. Gli agenti avevano già cominciato a lavorare per arrivare al più presto ad una risposta. Ricordiamoci però che il tempo è fatale e infatti qualcuno in polizia crede che la piccola sia ormai deceduta. Anche perché investigando scoprono dei dettagli davvero inquietanti. E sono tutti dettagli che riguardano Karen. Karen e il suo enorme albero genealogico. Allora, è giusto che sappiate che in totale l'albero genealogico di Karen, che sarebbe anche comunque una sorta di rete delle sue conoscenze, comprende più di 300 persone. Il punto è che non sono 300 persone delle sua famiglia passata o roba così. Sono circa 300 le persone con cui ha avuto a che fare durante tutta la sua vita e con cui ha stretto legami familiari, con figli o con semplici frequentazioni. Sono così tante perché banalmente per stilare questo albero genealogico la polizia prende in considerazione anche tutti i parenti di tutti gli uomini con cui Karen è stata durante gli anni. Compresi quelli con cui ha avuto solo una frequentazione e niente di serio. Quindi vi lascio immaginare. Fanno in questo modo perché potenzialmente chiunque tra queste persone, anche se non sono parenti veri e propri, potrebbe essere il colpevole del rapimento. Per la polizia è un lavoro di routine, ma in questo caso si ritrovano davanti una mappa chilometrica di volti, persone, nomi, date. Il loro lavoro non è affatto semplice. Pensate che hanno dovuto riempire un'intera parete di una stanza per inserire tutti i fogli con stampati nomi, foto, volti e varie scritte. Ma nonostante tutto alla fine riescono a segnarsi tutti i nomi necessari anche grazie all'aiuto di Karen stessa. Facendo questo lavoro sperano di trovare qualche pista. Magari appunto il rapitore è uno di questi parenti, ma potrebbe anche essere un estraneo o un amico di famiglia o qualcosa del genere. Ma vabbè, gli investigatori controllano alcuni di questi nomi nei loro database e scoprono che qualcuno è registrato. Ergo, qualcuno non ha la fedina penale pulita. E la prima a non essere pulita, in tutti i sensi, è proprio Karen Matthews. Tanto per cominciare, quando entrano in casa sua, vengono investiti da una puzza insopportabile. La casa è molto piccola, ma c'è spazzatura in giro. Vestiti buttati a casa un po' ovunque e oggetti vari sparsi sul pavimento. Persino i regali che le avevano fatto sono tutti buttati in un angolo come se niente fosse. E ricordiamoci che in quella casa ci vivono anche altri tre bambini in quel momento. Infatti proprio per tutelare loro intervengono gli assistenti sociali, che rimangono a dir poco scioccati. Un giorno queste assistenti sociali fanno visita a Karen e la trovano in casa molto tranquilla e allegra. Il suo compagno, il 18enne Craig, sta giocando all'Xbox e non sembra molto interessato alla situazione. Cioè, sembrava come se in quei giorni non fosse successo niente, capite? Comunque gli assistenti sociali notano Karen comportarsi in modo molto strano. Ogni tanto, mentre parlano davanti alla finestra, la donna guarda fuori per vedere se ci sono giornalisti. E gioca con la tenda per non farsi vedere, tipo. Oltre a questo, tutta una serie di altri aspetti un po' inquietanti fanno riflettere gli assistenti sociali. E infatti, come sospettavano, c'era effettivamente qualcosa di losco in lei. Karen, negli anni, aveva avuto diversi problemi con gli assistenti sociali. E non solo con loro. Torniamo un attimo indietro nel tempo. Da quando si era trasferita a Moreside Road, alcuni suoi vicini e persino sua sorella avevano in più occasioni informato le autorità circa il suo pessimo atteggiamento. Da quello che dicono le fonti, Karen spesso non badava ai suoi figli e li faceva mangiare solo di sera. Poi tutti i soldi che le dava lo Stato, ovvero gli assegni familiari, li spendeva principalmente per se stessa, in cose come sigarette, alcol e cibo d'asporto. Sempre da queste fonti emerge che non fosse nemmeno troppo gentile con i suoi figli e la piccola Shannon non era esclusa da questi trattamenti. Quindi la bambina è cresciuta timida e introversa perché sua madre Karen è sempre stata insensibile e poco presente. Non gliene fregava niente dei suoi figli. Pensava soltanto a vivere comoda senza fare praticamente nulla. È capitato infatti che gli assistenti sociali li avessero portato via i figli perché tipo non si presentavano a scuola o perché erano malnutriti o sporchi. A quanto pare addirittura Karen si drogava e drogava in qualche modo pure i figli. Però prendete questa informazione di specifico con le pinze. Ora capite perché Shannon era così gelosa delle sue poche cose? Perché ragazzi viveva in un ambiente terrificante. Infatti sempre una di queste fonti spiega che la bambina faceva spesso delle scritte sul muro vicino al letto. Usava quel muro come una sorta di diario in cui scriveva di voler andare a vivere con suo padre Leon e cose così. Ma prima che sparisse gli assistenti sociali hanno semplicemente lasciato perdere tutto. Cioè dopo anni che sono stati dietro a Karen, che l'hanno tenuta ad occhio, che hanno ascoltato le lamentere dei parenti e dei vicini, così ad un certo punto sono spariti. Ovviamente ci sarà un motivo, però non sono riuscito a trovarlo. Ma in generale non mi viene in mente nessuna spiegazione valida che potrebbe giustificare l'assenza di assistenti sociali. O il fatto che se ne andassero via da un momento all'altro. Inoltre ogni volta che, in via del tutto eccezionale, Karen doveva ricevere un loro controllo, una visita dagli assistenti sociali, veniva sempre avvisata prima, così poteva prepararsi per bene, pulire la casa, far mangiare i figli, recitare la parte della povera madre incompresa. Ecco vorrei soffermarmi su questo punto. La parola recitare non l'ho detta a caso, perché purtroppo in tutti questi anni passati così, Karen ha sviluppato un talento assurdo nel recitare e nel mentire. E infatti tornando al periodo della sparizione di Shannon, gli agenti cominciano a sospettare che la donna stesse fingendo. Si dice che riuscisse a cambiare atteggiamento a comando in pochissimi secondi, e che fosse addirittura capace di fingere sentimenti come la disperazione e vabbè la tristezza. Sentimenti che mostrava davanti alle telecamere e davanti alla polizia, ma che poi nel privato, come vi ho detto prima, quando gli assistenti sociali sono andati a trovarla, non mostrava, sembrava tranquilla. Ad un certo punto però è diventato chiaro che stesse fingendo, o che quantomeno nascondesse qualcosa. E infatti tornando al caso, i poliziotti scoprono tutti questi aneddoti mentre indagano sul suo albero genealogico. Ma ancora non possono accusare nessuno, non c'è nessuna prova. Tuttavia non dimenticano tutti questi dettagli, anzi li tengono in considerazione per tutta la durata delle indagini. Intanto si continua a cercare la bambina. Il padre, Leon, comincia a cercarla ogni giorno distribuendo volantini, chiedendo informazioni in giro e cose così. Lui insieme ai pochi altri parenti sembrano essere sinceri, vogliono davvero che Shannon torni a casa sana e salva. Ma allora perché proprio Karen sembra così sospetta? Perché ha avuto tutti quei richiami dagli assistenti sociali, se davvero sta fingendo? Perché? Gli agenti provano ad interrogarla, di nuovo, e si accorgono che ha cambiato versione in un punto specifico, ovvero nel punto in cui spiega dove si trovava il giorno del rapimento. Però aspettate, pensateci un attimo. Perché stiamo parlando di rapimento? Cioè Karen lo ha dato per scontato fin da subito, ma perché? Magari Shannon si è solo persa? Perché la madre ha pensato che sia stata rapita? E perché è così convinta che sia ancora viva? Spera sinceramente che lo sia? O lo sa e basta? E se lo sa, come fa a saperlo? Tutte queste domande inondano la mente degli investigatori che, continuando ad indagare, si imbattono in una persona che fino a quel momento non avevano neanche considerato. Una persona che si rivelerà molto importante. Una sorta di braccio destro di Karen. Si chiama Michael Donovan. Ed è lui l'uomo che tutta Desbury sta cercando. Dunque, Michael Donovan è quasi un parente di Karen, ma molto alla lontana. Per questo è stato difficile arrivare a lui. Tanto per cominciare, è nato con un nome diverso. E inoltre, è lo zio di Craig. Lo zio del compagno 18enne di Karen. Karen e Michael, quindi, non sono veri e propri parenti, ma sono molto collegati, possiamo dire. Michael, però, ha un passato decisamente più losco di quello di Karen. Non perché anche lui ha un albero genealogico enorme, ma perché anche lui ha la fedina penale sporca. Michael è nato e cresciuto a Desbury, e dovete sapere che ha un quoziente intellettivo un po' sotto la media. Questo lo rende facilmente manipolabile. Anche per via di ciò, fin da ragazzino, è sempre stato un po' ribelle. A scuola lo bullizzavano, e già all'età di 11 anni, ha iniziato a compiere i suoi primi crimini. Parliamo di cose come appiccare incendi e rubare in giro per negozi. Più avanti nella sua vita, si sposa, però, e mette al mondo due figli. Ma divorzia poco dopo, e i suoi figli vengono dati in affidamento. In un modo o nell'altro, Michael incuriosisce i detective, che cercando disperatamente una pista da seguire, vanno a trovarlo. In casa sua, però, non c'è nessuno. O almeno questo è quello che pensano, perché appena bussano, nessuno risponde. Chiedono allora alla vicina che sta al piano di sotto. Magari lei ha qualche informazione su di lui. Magari sa dov'è. La vicina, però, non ha molto da dire, e in realtà ne sa quasi quanto i detective. Quasi. Infatti qualcosa in più la sa. Dice che da diverso tempo sente dei rumori provenire dal piano di sopra, ovvero dall'appartamento di Michael. Dice di aver sentito come dei passi e la voce di un bambino. Queste parole chiaramente mettono in allarme gli agenti che, senza perdere altro tempo, tornano al piano di sopra e sfondano la porta della casa di Michael. Quindi entrano, si mettono a cercare ovunque, ma sembra che non ci sia nessuno. Trovano degli oggetti interessanti. Tre in particolare. Il primo è uno dei tanti volantini che pubblicizzano la storia di Shannon e annunciano la ricompensa di 50.000 sterline. Il secondo è già più inquietante perché è un foglietto dove ci sono scritte una serie di regole. Queste regole sembrano essere scritte da Michael e obbligano qualcuno a non sporgersi dalle finestre, a camminare piano, a non fare troppo rumore, a guardare la tv ogni tanto, cose di questo tipo. Ormai è chiaro che lì dentro o c'è stata o c'è Shannon. Ormai gli agenti ne sono più che sicuri. Infatti il terzo oggetto sospetto che trovano, e quello più interessante, è una sorta di cordicella che pende dal soffitto. Tipo un cappio. Non sembra esserci nessuno, ma ad un certo punto gli agenti sentono la voce di una bambina che si lamenta. Questa voce arriva da sotto il letto. Tramite una fessura, gli agenti riescono a vedere una bambina e la tirano fuori. È Shannon. È ancora viva e sta bene. Ma non è sola. Accanto a lei, in questa fessura sotto il letto, c'è Michael. Tirano fuori anche lui con la forza, mentre si dimena come un pazzo e oppone resistenza inutilmente. Michael ha tenuto in casa la bambina per tutto questo tempo. Le ha proibito di fare molte cose, ma allo stesso tempo le ha anche concesso alcune libertà. Ma in tutta questa vicenda ci sono altri tre aspetti inquietanti che vale la pena sottolineare. Il primo è che Michael ha riconvertito la panca del suo letto in un nascondiglio. Vi metto una foto per farvi capire cosa intendo. Ed erano nascosti lì, quando sono stati trovati dagli agenti. Il secondo aspetto inquietante è che Michael, per tutto il tempo che ha tenuto sotto sequestro la bambina, le ha somministrato dei farmaci potenti. In pratica la drogata. E il terzo, che sinceramente è il più assurdo, è che Shannon ha detto che il periodo in cui ha vissuto da Michael, quindi da reclusa, è stato migliore rispetto a quando viveva a casa con la madre. Questa testimonianza conferma i dubbi che gli agenti avevano su Karen. Davvero quella donna è sempre stata una pessima madre. Sul serio non le è mai fregato niente dei suoi figli. Voleva solo i soldi dello Stato. E inoltre sembra esserci anche lei dietro questa storia del rapimento. La polizia quindi porta in centrale Michael, mentre Shannon viene affidata alle cure degli assistenti sociali. Per fortuna non le permettono di tornare a casa da sua madre, ma le concedono di vederla qualche volta. Raramente. E per farvi capire quanto Karen fosse falsa e anche ipocrita, quando ha visto sua figlia Shannon, non ha avuto alcuna reazione. Cioè erano passate settimane intere, tutto il Regno Unito la stava cercando, tutti hanno dato una mano, ma quando la piccola è corsa verso sua madre per abbracciarla, Karen l'ha quasi allontanata. Capite? L'ha quasi spinta via. Anche durante i festeggiamenti del suo ritorno, Karen aveva un'espressione rigida, come se fosse delusa o arrabbiata. Mentre tutta Desbury festeggiava con fuochi d'artificio, canti e balli, lei si comportava così. Davvero ragazzi, fredda come il ghiaccio. Zero emozioni. E tra poco capirete il perché. Tornando a noi, la polizia interroga Michael e davanti alle telecamere l'uomo ammette di sentirsi male. Dice che non c'entra niente con questa storia e che è tutta colpa di Karen. Dice che è stata lei ad organizzare questo piano. Che c'è sempre stata lei dietro tutto questo. Poi, di colpo smette di parlare. Il suo avvocato è lì con lui e ripete spesso le parole no comment. Dopo aver sentito Michael, anche Karen viene portata in centrale per un interrogatorio. La donna però risponde alle domande in maniera evasiva. Come se non volesse davvero rispondere. E come se stesse nascondendo qualcosa di molto importante. In questo periodo di interrogatori, la notizia che vede Karen come la vera responsabile del rapimento di Shannon comincia a girare nel quartiere. Quindi finalmente tutti cominciano a vedere le cose come stanno. E a rivalutare la donna che fino a quel punto avevano aiutato incondizionatamente. A farsi avanti in questa situazione sono due delle sue vicine in particolare. Quelle che l'avevano già denunciata agli assistenti sociali in passato. Ecco, Karen ha fatto addirittura finta di non conoscerle. Ma loro, adesso che la bambina è tornata e Karen si sta comportando in questo modo schifoso, vogliono vederci chiaro. Vogliono parlarle faccia a faccia senza mettere di mezzo né assistenti sociali né la polizia. Così la portano in un luogo isolato dove possono parlare tranquillamente e lì queste vicine di casa le sbattono in faccia alla realtà e la spronano a dire le cose come stanno. Spiegano che la storia è andata avanti fin troppo e che lo stato ha già speso più di un milione di sterline per questo caso. Karen, però, è evidentemente a disagio. Si nervosisce sempre di più. Più parlano più diventa arrabbiata. A un certo punto si mette a piangere mentre le altre insistono con i loro discorsi. Così la donna dopo un po' comincia a cedere ed effettivamente conferma di aver mentito. Però non dice altro. Anzi, la sua non è neanche una vera confessione perché si limita solo a dire di aver mentito. Ma nonostante non sia una vera e propria confessione, viene subito portata dalla polizia. Questa volta in modo definitivo. Anche il suo compagno Craig viene arrestato, ma lui per possesso di materiale pedoprofografico. Cioè, vi rendete conto in che cavolo di posto vivevano i figli di Karen? Dio mio, povere creature. Comunque, anche grazie a altre nuove prove e nuove testimonianze, gli investigatori accusano Karen e Michael in modo definitivo. Lei ormai sembra arrendersi e non vuole neanche più fingere. Però non vuole neanche dire la verità. Non finge nemmeno di essere sorpresa nello scoprire che Michael ha rapito sua figlia, ormai. Infatti nei suoi ultimi interrogatori è completamente diversa da come era stata fino a quel momento. Ora si contraddice da sola e dice cose sempre più sospette. Cambia ancora versione. E sembra non voler parlare, ma in realtà le sfugge un dettaglio fondamentale. E dichiara che lei e Michael si erano messi d'accordo per inscenare il rapimento. E l'avevano fatto dopo aver sentito il caso del rapimento di Maddie McCann, una bambina rapita in Portogallo. Quel caso era diventato così famoso che Karen voleva sostanzialmente replicarlo. Quindi ha ideato il suo piano malefico facendo rapire Shannon da Michael. Poi i due, secondo il piano, si sarebbero divisi la ricompensa non appena sarebbe arrivata a 100.000 sterline. Quindi alla fine ragazzi, l'intero caso di Shannon si basa sul desiderio di sua madre di fare soldi. Cioè di fare soldi, di avere soldi, di ricevere soldi. Solo questo. Michael si è lasciato corrompere anche se prima non voleva accettare. Ed è successo tutto quello che sappiamo. Non so davvero cosa dire, quindi passiamo al processo. Durante il processo, Karen piange disperata e scarica tutta la colpa su Craig, il suo ex compagno diciottenne. Dice che era violento, che lo voleva lasciare e inscenando il rapimento di Shannon, in qualche modo avrebbe interrotto il loro fidanzamento, la loro unione. Tranquilli se non avete capito bene, perché infatti è una spiegazione molto confusa a cui ovviamente nessuno crede. È un'altra delle sue bugie. Comunque alla fine lei e Michael ricevono solo 8 anni di carcere. 8 anni. È vero che non hanno ucciso nessuno, ma hanno preso in giro letteralmente tutto il Regno Unito. E hanno fatto perdere una valanga di tempo e soldi sia allo Stato che ai civili. Ma la cosa ancora più assurda è che entrambi verranno liberati nel 2012, quindi dopo aver scontato meno della metà della condanna. A tutti i figli di Karen, compresa Shannon, hanno dato una nuova identità e non si sa né dove siano né che aspetto abbiano. Anche Karen ha ottenuto una nuova identità e vive la sua vita da donna libera come se niente fosse. Ed è questo il punto che fa incazzare. Non ha scontato neanche la sua pena, ha fatto tutto ciò solo per soldi e adesso ha pure un'altra identità e vive la sua vita tranquilla. Assurdo. Michael invece sembra essere tornato di nuovo in prigione, ma non si hanno altre informazioni. La cosa che sappiamo è che Michael, Karen e Craig se ne sono andati tutti quanti da Westbury. Per cui per la gente del posto è un bene, perché ragazzi davvero Karen è diventata una delle madri più odiate del Regno Unito. E al solo pensiero di tutte le buone azioni fatte per lei viene nervoso anche a me che non ho vissuto quella vicenda. Figuratevi alla gente del posto che ha aiutato. Come vi ho detto all'inizio video è una storia che finisce bene perché Shannon ha una nuova famiglia, è viva e molto probabilmente anche in salute, così come i suoi fratelli. Ma fa arrabbiare sapere che Karen sia a piede libero, perché non è detto che cambi mentalità dopo ciò che è successo, specialmente se non ha neanche scontato per l'intero la sua condanna. Fa davvero incassare sta cosa? Solo a me? Non penso solo a me. Alla fine questa storia lascia con una certa amarezza, non è morto nessuno per una volta, ma ciò non toglie che sono stati commessi crimini terribili. E a questo punto sono davvero curioso di conoscere anche i vostri pareri qui sotto. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, dico che sto sudando come non ho mai fatto in vita mia. Per registrare questo video ci sono voluti 76 minuti, perché mi fermavo per fare questo, ogni due secondi. No, comunque a parte questa cosa qui, anticipo che presto parleremo di alcuni casi che mi chiedete dal giorno zero. E di cui non ho mai voluto parlare, però vi ha ragioni. Molto presto vedrete. Spero quindi che rimarete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!